Certamente nella prima fase il provvedimento del Stato Lazio non interessa l'autonomia gestionale e amministrativa di Pestum e chi ne ha la responsabilità, cioè che abbia il Zuck Ticket. Non escludo che nelle ricadute di un provvedimento che è stato assunto per altri probabilmente la cosa potrà interessarlo e quindi ha perso il provvedimento attuale e naturalmente anche in ragione delle ricadute che potrà produrre ulteriori, penso sia giusto ma non sfuggirà al Ministro di attivare subito un'azione in sede di appello ricorrendo al Consiglio di Stato. Questo provvedimento ha dell'incredibile francamente perché noi abbiamo fatto come istituzioni, come persone, come cittadini tutta una retorica per anni sull'Europa unita, sull'Europa dei cittadini, l'Europa della circolazione libera, delle intelligenze, delle persone, delle merci e poi discriminiamo le persone per nazionalità. Veramente non ci sono parole per definirne l'assultità, è un provvedimento che ha dell'incredibile.